Benvenuti a tutti di nuovo, siamo alla finale con il Tottenham Dopo aver vinto la Coppa Italia per il secondo anno consecutivo proveremo a vincere la seconda Europa League consecutiva contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni guardate che bella la maglia, la seconda o terza maglia, molto bella andiamo in campo tostissima proveremo anche se sappiamo che sicuramente non è facile squadre inglesi giocano molto alte però sanno anche pressare giocano con un 3-2-3-2 o 3-2-2-3 una cosa del genere, quindi molto attacco grande pubblico questo St. Jacob Park bellissimo, eccola qua eccola qua non assomiglia per niente all'Europa lì, pochissimo andiamo in campo, non perdiamoci in chiacchiere, calcio in inizio per gli Spurs Dante Botman Son Youngmin mette in mezzo questo pallone c'è Diaz Crescito, mamma mia Fernandez pallone a Miretti appoggia a coda non ci arriva Romero eh, sono forti Lucas Moura questo è fortissimo fermato da Crescito palla adesso da questa parte coda l'appoggia a Castel dai Poli sventagliata chiuso ancora Poli stavolta riesce a servire Fabio Silva la palla a Castel c'è coda lo stop di coda prova a tiro e c'è più un gol gran col di coda 1-0 mamma mia che azione Brucci guardate dove giocano alti c'è i tre difensori a centrocampo 1-0 per il Genoa mamma mia incredibile Dante però attenzione mi aspetto alla grande reazione del Tottenham Youngmin mette da questa parte per Chavezase lo chiameremo così nome impronunciabile almeno per me palla in mezzo ancora è bravo tocca l'indietro la palla viene appoggiata Poli non ci arriva ancora il Tottenham attenzione Bernardeschi minchia l'ha comprato il Tottenham eh sì incredibile non è male come giocatore eh Bernardeschi calcio d'angolo colpa di testa la palla rimane lì poi l'allontana male Fernandez Bentancur Bentancur ancora il tiro Murato bravo Fernandez e poi allontaniamo la palla allora Fabio Silva coda non è veloce bisogna temporaggiare palla lunga attenzione che coda brucia Botman 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 intrinario coda la mette indietro Fabio Silva sul petto mamma mia grande partita grande inizio di finale la seconda in Europa League e c'è Poli il colpo di testa la palla rimane lì Kragia pallone a Castel che la gira Fernandez il tocco ancora verso Fabio Silva mette in mezzo per coda che va via parte e tiro la parata mamma mia è alle corde il Tottenham non me lo sarei mai aspettato storica la rivalità con l'Arsenal uno dei derby inglesi più sentiti nella storia lancio lungo pallone in avanti colpo di testa la palla rimane lì e allora recupera Poli Castelheim Fernandez sbaglia l'appoggio Bernadeschi Lucas Mora attenzione a Lucas Lucas avanza eeeh grandissimo Fernandez gran finale di stagione per lui coda ancora Castelheim la mette d'esterno entra pulito il Tottenham e chiude ancora Lucas Mora siamo al 24 esimo anticipato Miretti tocca l'indietro e si ricomincia ancora la palla verso Diaz occhio a non commettere errori Crescito Fernandez pallone allargato molto bene per Carajà stoppa la palla ancora c'è un fallo qui sfondamento del centrale del Tottenham attaccante centrale da non sottovalutare assolutamente Diaz palla in mezzo si gira ancora Diaz la palla poi non arriva l'appoggio esce bene esce bene il Tottenham pallone ancora in avanti attenzione grande recupero di Vague mamma mia partito dalla difesa del Tottenham risale Crescito la palla in mezzo Castelheim gran pallone allora Poli palla verso Castelheim che non filtra arriva il Tottenham per primo Lucas Mora messo giù calcio di punizione e sarà cartellino per Crescito e allora Ederson il portiere che batte la punizione Romero pallone adesso giù è intagliato parte questo tiro mamma mia pericolosissimo primo acuto degli Spurs così chiamati in Inghilterra il Tottenham guardate come pressa alto ma noi la tiriamo su Mirante a cercare Coda non la mette bene giù poi cerca di recuperarla Bernalveschi Bernalveschi che può puntare in avanti Dante Bernalveschi deve arrivare Fernandez a chiudere lo fa bene lo fa bene su Bernalveschi Fernandez ancora dai e vai il dai e vai eh cazzo Romero chiude Ederson lancio lungo colpo di testa la grande scelgevano qua gran colpo di testa c'è la falla si prosegue ancora il Tottenham siamo al 39esimo con Mijin pallone appoggiato da questa parte c'è Cavedazze attenzione che è bravo nei dribbling lo anticipa alla grande poi ancora Tottenham sta infuriando il Tottenham qui tiro la palla fuori gran tiro di Bernalveschi ma era troppo alto alziamo sta squadra lancio lungo Coda prova a metterla giù ma pallone in uoco Everson la rilancia in avanti Crescito mette lui il pallone Bentancur arriva però da dietro bravissimo Fabio Silva Castelda e pallone in avanti Fabio Silva e si prende paura il terzino del Tottenham e mette la palla il fallo laterale poi qui scappa il pallone a poli lo recupera con un po' di fortuna Kajá pallone adesso appoggiato a coda niente da fare ancora la palla in avanti c'è un po' di confusione e finisce così 1-0 Genoa al primo tempo allungatore Conte e si arriva in campo si riparte con la coda Fernandez pallone a Diaz l'appoggio Carvague il lancio da questa parte gioca bene il Genoa la palla verso Fabio Silva deve solo controllare attendere Fabio Silva prova andare via ma Dante veramente forte ex Real Madrid Bernardeschi Romero Bentancur ancora Romero Bernardeschi Romero lancio lungo di Romero bravissimi attenzione all'errore dalla portiera allarga da questa parte Mirante bravissimo pallone a Fague ancora di 1-2 che funzionano bene questa ragnatela di passaggi Poli palla verso Fabio Silva tiene il pallone ancora Fabio Silva Fabio Silva prova a craggio a mettere in mezzo questo pallone coda non ci arriva lo recupera Fabio Silva fa partire questo tiro giro pericolosissimo un palla fuori gran finale Tottenham non riesce a sfumare la linea 3 dietro del Genoa che è messa bene Bernardeschi ballone in mezzo allora ancora il Genoa che insiste palla lunga Bernardeschi mette in mezzo e poi crescito sbaglia tutto recupera Lucas Mora ancora crescito che sfondamento e poi perde ancora la palla la riconquista Dante che esce dalla difesa attenzione qui palo mamma mia ancora Lucas Mora che mette in mezzo Poli a lontana e poi Castellain grande rasoiata Fabio Silva grande palla e Fabio Silva non riesce un bot ma non va a passarla in velocità allora Romero Bernardeschi sta premendo il Tottenham attenzione la palla in mezzo ma grandissimo mamma mia che riuscito che partita Miretti Miretti prova questo lancio bellissimo esce mamma mia che uscita Ederson ha detto qua non passi stavolta rilancio lungo Castellain non ci arriva anticipa tutto Diaz la palla in mezzo ancora Diaz se la fa ridare stop di Fabio Silva la palla in mezzo adesso per Miretti Miretti prova questo tiro esterno nella rete fuori grande Miretti che campionato che mi ha giocato questo ragazzo entra Hoigbang lancio lungo ancora insiste grande palla qui ma è lunga e quindi si riparte attenzione allarga sto gioco bravo Vague Diaz eh giochiamo bene però mamma mia Poli palla ancora che sale Krajà Krajà che sale attenzione vediamo i movimenti finta di andare avanti c'è in mezzo c'è in mezzo coso koda ma palla sul portiere rilancio lungo è ancora Diaz che va a contrastare la palla verso il Tottenham ancora con Kunijing come cazzo che si chiama eh ma Vague è fortissimo mamma mia che miglioramenti che mi ha fatto sto giocatore nel corso degli anni ancora Kastlede che punta velocemente la porta la vuole chiudere parte il tiro giro la parata in due tempi rilancio in avanti è una battaglia ancora Genova che recupera un gran pallone rientra dal fuori gioco koda parte questo tiro fuori mamma mia ragazzi mamma mia sostituzione vediamo per chi entra Perisic un po' di Italia in questo Tottenham Berladeschi e Perisic questo è pericoloso pallone a Vague adesso Vague può andare attenzione grande Kunijun Krasja Murato attenzione Diaz mamma mia Kastledan cosa prende in questa difesa ancora la palla girata dall'altra parte si attende la salita ancora e viene fatta bene e andiamo a chiuderla Miretti non ce la fa più Miretti Miretti il palonetto no ragazzi questo ragazzo lo dovete comprare assolutamente è forte è bravo è bravo non è un fenomeno ma è bravo mamma mia si è fatto tutto da metà campo 70 e qualcosa metri di corsa mamma mia è gran gol madonna grande Miretti andiamo a cambiare un po' di gente ragazzi Crici Tom unito Claudio bravo dentro Vague non ce la fa più e allora ci andiamo a inventare il terzino ci andiamo a inventare il terzino che potrebbe essere il Terranovo anche se non è in forma e Miretti lo lasciamo per festeggiare Castel lo lasciamo e andiamo così 2 a 0 ragazzi 2 a 0 Dante seconda Europa Rigby in arrivo consecutiva in arrivo cane Mirante e poi con calma cercherà di lanciare lungo pallone attenzione che pasticcio stava combinando il Tottenham pensavo fosse più forte sinceramente dico la verità attenzione vento al culo entra parolo esce Krasia la palla lunghissima di Mirante Fabio Silva per coda Dante non la tiene lì la recupera ancora Miretti e lancia coda la palla in mezzo Fabio Silva la gran parata di Ederson mamma mia Miretti mamma mia che giocatore forza Troia Castelda il tocco in mezzo ancora la palla da questa parte adesso Castelda che prova a cercare gloria anche lui la scarica per Fernandez il gran tiro fuori mamma mia perché non abbiamo giocato così per lo scudetto potevamo andare a contrastare Fiorentina e Inter abbiamo commesso degli errori in certe partite di campionato davvero brutti c'è stato quel periodo che non vincevamo più mamma mia Mira e lì sono tutti i punti persi Castelda il pallone appoggiato all'indietro ancora il lancio in avanti Poli deve uscire questa sventragliata sbagliata da Mirante si è ubriacato torta pensione Kim Jong fuori e lì finisce qua il Genoa vince la sua seconda Europa League Europa League e Coppa Italia come l'anno scorso e quindi poi siamo andati in Champions quest'anno ma poi siamo stati eliminati una Champions anche sfortunata grande entusiasmo per il mister quasi quasi lo buttano per terra ma lui non vuole andare per terra Tottenham che ha avuto anche un po' sfortuna eccola qua vince l'Europa League la sua seconda consecutiva come la Coppa Italia il Genoa e ragazzi io direi che per adesso è tutto andiamo a simularci andiamo avanti faremo un altro video simulazione e vi farò vedere come sono finite le varie finali di Coppa se ci sono già Champions se ci sono già per forza questa è l'ultima giornata ma faremo un video un altro video a parte quindi andremo a fare vabbè ok qui non guardiamo nulla va bene a dopo